Dopo la frana che si è verificata sul versante romagnolo del Passo dei Mandrioli, si riaccende la polemica sul tratto di strada che collega il Casentino e l'Emilia Romagna. Alcuni giorni fa, infatti, tra il ristorante Trebotti e il Passo, sono caduti alcuni grossi massi che hanno bloccato la sede stradale. Fortunatamente nessun veicolo è stato colpito con il transito che è stato ripristinato velocemente, ma l'episodio ha riportato alla luce il problema della sicurezza, visto che proprio quel tratto di strada è sempre stato interessato da fenomeni franosi, nonostante alcuni interventi recenti di manutenzione, come spiega il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gabriele Veneri. L'ennesima frana dimostra che la messa in sicurezza del Passo dei Mandrioli non è più rinviabile. I grossi massi caduti sulla sede stradale rimarcano le responsabilità di un immobilismo che va avanti da anni, spiega Veneri. Anche questa volta solo la casualità ha evitato feriti, visto che i massi costruivano la sede stradale erano di dimensioni importanti. Si tratta di una strada da sempre interessata da movimenti franosi, ma gli interventi di manutenzione avvengono soltanto sul singolo episodio, rincorrendo una sistematica emergenza, mentre sarebbe invece urgente un intervento complessivo e strutturale. La Toscana dovrebbe confrontarsi con l'Emilia Romagna e aprire un tavolo di riflessione. Torniamo a chiederci come mai, visto che la strada avrebbe bisogno di essere urgentemente messa in sicurezza, la mozione presentata da Fratelli d'Italia circa un anno fa sia stata bocciata dal PD e dalla maggioranza in consiglio regionale, con la motivazione che tante criticità erano state superate. La verità, conclude Veneri, è che c'è una viabilità di serie A e una di serie B. Evidentemente per chi governa la regione toscana, la provincia di Arezzo viene considerata di serie B.